Allora ragazzi, adesso siamo pronti per riprendere la suonata di mezzogiorno dopo che abbiamo ripreso il bestione, il campanone dalla scela campanaria per la messa solenne nella solennità dell'epifania dell'11.30. Adesso riprendiamo la suonata di mezzogiorno. Non so cosa suona, se suona il plenum o il campanone. Boh, aspettiamo. Qualcosa di sicuro suonerà. Con questo vi lascio alla suonata. Buon ascolto a tutti. Ciao. Vabbò sentì. Vabbò sentì. Vabbò sentì. Vabbò sentì. Vabbè. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.